All'avvocato Valerio Spigarelli, è l'ultimo intervento, presidente dell'Unione Camere Penali italiane e voglio ricordare che l'Unione Camaperane è stata forse il primo soggetto competente che ha espresso critiche rispetto alla formulazione del 416 terre che abbiamo qui più volte criticato e che rischiava di essere approvata. Però mi pare che alle prime reazioni critiche dell'Unione Camere Penali non è seguita una particolare attenzione nel dibattito pubblico, no? No. Diciamo che si è dovuto aspettare l'intervento di altri soggetti. Prego. Era proprio un passaggio che avrei affrontato e che affronterò nella mia relazione. Ditemi quanti minuti ho che io mi cronometro e sono autocensorio, in modo che così... Un quarto d'ora massimo. Un quarto d'ora massimo. Bene. Allora, anch'io cito Ligabue, nel senso che mi è venuto in mente sentendo il dottor Morosini perché avrei voluto fare una citazione un po' diversa, cioè in occasione di questo genere gli avvocati penalisti richiamano la figura bellissima di un regista arrabbiato inglese degli anni settanta che raffigurava un maggiordomo in un film che si comportava da maggiordomo fino alla fine del film e poi però confessava, prima che il film finisse, si chiamava la classe dirigente, non a caso il film, di essere la tessera numero uno del partito comunista britannico e di fare la rivoluzione sputando nella zuppiera degli aristocratici presso i quali prestava servizio. E escludo questa citazione perché è troppo colta una vita da mediano, mi va bene richiamando invece Morosini per dire che l'avvocatura è un po' il mediano in questo dibattito, nel senso che io ero venuto qui, forse forte delle mie origini romane, pensando che ripensare significasse quello che dalle nostre parti significa ripensare, uno che ci ripensa e generalmente uno che pensa comunque di aver fatto qualche cosa che va modificata. Non sono del tutto convinto, al di là invece delle indicazioni preliminari del professor Fiandaca, che sia proprio questo poi lo sfondo sul quale ci stiamo muovendo. E francamente mi ha convinto di questo anche una parte dell'intervento del dottor Pignatone, che prenderei al volo proprio per andare subito a gamba tesa e media stress. Apparentemente terogeneo è il tema perché è quello delle misure cautelari, ma in realtà c'entra moltissimo con quello che poi tenterò di dire. Io vorrei spiegarla quella norma, dottor Pignatone, perché quella norma è nata da una fortunata probabilmente irripetibile e forse non più ripetuta a breve esperienza di collaborazione tra l'Accademia, la Magistratura e l'Avvocatura all'interno di una commissione ministeriale, non a caso non prorogata, presieduta da Giovanni Canzio, Presidente della Corte d'Appello di Roma. Che significato ha quella norma? Ha il significato in una certa misura di riconoscere quello che tutti sanno, e cioè che in questo Paese la custodia cautelare viene applicata come anticipazione della pena. E questo non lo dico io, anzi, non continuo a dirlo io, non continua a dirlo l'Avvocatura penale, mediana appunto in questo schieramento calcistico, ma per fortuna l'ha detto il centroattacco, e cioè il primo Presidente della Corte di Cassazione non più tardi di due anni fa, che ha dichiarato formalmente che in questo Paese la giurisprudenza legittima un'applicazione anticipata della pena in luogo di quella che dovrebbe essere la custodia cautelare. Siccome questo è il fenomeno, e siccome fortunatamente il fenomeno ormai è stato riconosciuto da così alti vertici, ci dobbiamo mettere, come si dice, un rimedio a questo fenomeno. E tra i rimedi c'è anche quello di gravare il giudice di una valutazione che sarà prognostica, ma che gli permette di dire in una qualche misura che tra le varie prognosi ci deve essere anche quella di un destino che non passa necessariamente per il circuito penitenziario, o passa per situazioni diverse, e quindi si grava il giudice anche di questo. Ma ripeto, come ogni norma c'ha una razio, c'ha una spiegazione e forse c'ha anche una posizione nel sistema che non è eterogenea, intendo nel sistema costituzionale naturalmente, perché di fronte alla affermazione del primo Presidente della Corte di Cassazione, cioè dell'espressione massima della legittimità in un Paese, che la pena, anzi che la custodia cautelare viene utilizzata come anticipazione di pena. Forse non bisognerebbe dimenticare che questo è espressamente vietato dalla Costituzione, non è mica accettato dalla Costituzione. Quindi quando si fanno affermazioni così forti bisogna necessariamente poi nel sistema trovare qualche cerotto, qualche medicina che rispetto all'affermazione che individua una patologia va attuata. Non lo dico per polemica, lo dico proprio perché se no, e molto spesso nel dibattito anche che riguarda i temi dell'antimafia, le parole finiscono per non avere lo stesso senso che hanno nel linguaggio comune, noi perdiamo di vista il fenomeno che attraverso delle cosmesi legislative tentiamo di curare. Detto questo, io penso che molta parte del dibattito che noi abbiamo fatto qui oggi è un dibattito che in realtà ha due punti fondamentali. Un punto è come il legislatore affronta, con quale tecnica legislativa il legislatore affronta dei fenomeni criminali e il secondo punto è, perché è sempre latente, qual è in questo momento lo stato dei rapporti tra i poteri dello Stato. Allora, primo punto, su questo io penso che veramente siamo tutti d'accordo. Diceva Caetano Insolera che c'è un'evidenza clamorosa. In questo Paese si fanno le leggi, anche le leggi che riguardano il fenomeno mafioso, non soltanto prescindendo o ignorando i dati criminologici, ma certe volte deliberatamente rivendicando il contrario di quello che dicono i dati criminologici. L'esempio forse non è calzante, però rende bene l'idea, perché il resto l'ha detto troppo bene Caetano, non ci voglio tornare, il discorso degli omicidi, gli indici degli omicidi, un certo tipo di fatti di sangue. Noi non possiamo dimenticare che questo è il Paese in cui uno dei decreti sicurezza che richiamava Caetano Insolera, cioè quelli emanati tra il 2007 e il 2008, era un decreto che riguardava anche la violenza sessuale, decreto legge tra l'altro. Si fece un decreto legge ovviamente intestato alla straordinaria necessità di urgenza di espropriare il Parlamento dalla formula normale di produzione della legge fondata sul dilagare dei reati di violenza sessuale. Quel decreto legge era firmato dal Ministro dell'Interno, come spesso avviene, dal Ministro della Giustizia. Non li nomino, ma tanto sapete tutti che erano Maroni da un lato e Alfano da un altro. Che diceva quel decreto? Diceva che c'era un fenomeno dilagante. Che diceva il Ministro dell'Interno Maroni che firmava quel decreto lo stesso giorno che l'ha firmato? Convocava una conferenza stampa e diceva che i dati criminologici sulla violenza sessuale erano in calo in Italia, c'era un unico dato in aumento, era quello della violenza domestica. Allora, questo per dire che le leggi nel nostro Paese si fanno in questa maniera, ma questo anche per dire che rispetto a questa tecnica di formulazione delle leggi non è soddisfacente analizzare un fenomeno e analizzare alcuni elementi che dovrebbero essere gli epigoni di quel fenomeno, concludere che quegli epigoni sono diciamo in calo, per poi invece con una logica che a me sfugge e sostanzialmente dire se questo fenomeno criminologico non ha degli elementi che ce lo dicono in aumento, allora vuol dire che è silente e quindi è ancora più pericoloso di quando aumenta. Perché questa è una logica da Heller, da Comma 22, lo ricordate? Nessuno partecipa alle operazioni di guerra se è pazzo, ma chi chiede di non partecipare alle operazioni di guerra evidentemente non è pazzo. Non è, io penso, una maniera di ragionare che noi possiamo contrapporre al legislatore che ha quel tipo di tecnica legislativa per rendere sempre, come dire, emergenziali determinati fenomeni. Perché si può affrontare un fenomeno drammatico e chi lo nega, come la mafia, pur senza necessariamente invocare l'ideologia emergenziale. Perché l'ideologia emergenziale che cosa comporta quando poi è trasferita in Parlamento? Comporta per esempio il 416 ter di cui si stava discutendo e di cui io non discuto quasi più, perché ormai l'abbiamo detto tutti e finalmente il Parlamento l'ha riconosciuto che si stava licenziando una norma assolutamente indeterminata, che violava i criteri di tassatività. Forse quello di cui non si è discusso è che in questa maniera il Parlamento, come gli era accaduto anche in altre stagioni, metteva il collo sul ceppo di un rapporto alterato tra il potere giudiziario, il potere legislativo e il potere politico. Perché licenziare una norma di quel genere significava dare, volenti o nolenti e soprattutto inconsapevoli, un potere di indagine, su cui poi torno, che era un potere di indagine condizionante rispetto allo sviluppo democratico di un Paese. Mi sembra un accenno l'ha fatto anche Morosini a questo tema, ma anche questo avveniva in maniera del tutto inconsapevole e non soltanto del tutto inconsapevole, ma fondando invece la richiesta di licenziare quella norma che era scritta in quella maniera sulla scorta del stesso identico, tra virgolette, riflesso emergenziale, che poi è anche la ricerca del consenso di una produzione legislativa, che è una produzione legislativa demagogica. E allora, rispetto a questo, io vorrei fare alcune precisazioni di carattere metodologico. Qui il problema, dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista per l'appunto degli avvocati penalisti, ma anche dal punto di vista di quegli avvocati penalisti che si occupano della produzione legislativa, come siamo noi delle Camere Penali, è che la tecnica emergenziale non riguarda più soltanto le emergenze, riguarda le non emergenze. Ovvero, la tecnica emergenziale di produzione legislativa riguarda tutto quello che viene nomenclato come emergenza, ma che in realtà sono i problemi, come dire, fisiologici di una democrazia avanzata o di un paese avanzato come il nostro. Finché l'emergenza era il terrorismo, il discorso poteva essere emergenziale, ma quando diventa l'ambiente, l'inquinamento, la corruzione, la circolazione stradale, gli sballi notturni, l'immigrazione clandestina, in Sicilia, tre anni fa, quattro anni fa, io lo notai, ci fu un terribile episodio di randaggismo, fu sbranata una turista, era una cosa che colpiva molto. Io poi sentì alla televisione che un magistrato del luogo obiettivamente stava invocando l'emergenza cani in Sicilia e chiedeva strumenti legislativi adeguati e anche norme adeguate per, diciamo, combattere l'emergenza cani in Sicilia. Era un po' troppo evidentemente, però quando si innesca un determinato ragionamento emergenziale e poi il ragionamento emergenziale finisce per travolgere pure quelli che tentano di, come dire, comporlo in qualche maniera. Il professor Fiandaga ha appena finito di dire che l'Unione delle Camere Penali ha segnalato, ma non quest'anno, un anno e mezzo fa, la produzione che riguardava il 416 terre e fu un grido che cadde nel vuoto. Io sono molto contento che a quel grido non soltanto sia unita una parte qualificatissima della dottrina, ma sia unita in maniera transciante e risolutiva l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Mi chiedo però, in che Paese vivo? Se le stesse cose che ho detto io, più o meno, che abbiamo detto noi, avvocati penalisti, hanno avuto bisogno di una legittimazione, come dire, a 24 carati, ancorché poi gli avvocati penalisti facciano parte, diciamo, della società civile e come gli altri, anche se tornerò alla fine del mio discorso, ma ci sto arrivando sulla posizione dell'avvocatura e sull'idea che all'interno del problema antimafia si ha dell'avvocato e della funzione dell'avvocato. Ma dicevo, com'è possibile che una censura di incostituzionalità si legittimi solo perché chi esercita il potere giudiziario, e non lo è, ha sposato quell'idea e invece sia delegittimata se sia solamente il flautus vocis di qualche garantista in via di estinzione? Io penso che ci sia da riflettere su questo fatto. Io penso che è un problema che riguarda tutti, così come, e segnalo gli ultimi due problemi, riguarda tutti un altro concetto, a cui io sono affezionatissimo, so di, in una certa misura, bestemmiare in chiesa, ma come il maggiordomo della classe dirigente sono abituatissimo a farlo, dico sempre che mi invitano nei convegni una volta sola, poi la volta dopo generalmente si evita. Per gli avvocati penalisti italiani il 41 bis è fuori dalla Costituzione, è uno strumento di pressione, è una formula che assolutamente non garantisce la sicurezza, ma produce una pressione su diritti incoartabili dei detenuti. Quando il serpente si morde la coda succede che un detenuto famosissimo, ormai ridotto in condizioni tali da non poter comunicare proprio, a non comunicare con l'associazione mafiosa, rimane al 41 bis con il parere dissonante delle procure della Repubblica che esercitano diciamo l'azione penale e l'hanno esercitata, o anche l'esecuzione della penale nei suoi confronti. Sarà un paradosso questa circostanza? Sarà a tutto all'interno di quella idea emergenziale che arriva pure a frustrare i diritti costituzionali? Io penso che la nuova antimafia si dovrebbe interpellare anche di questo, il che non significa assolutamente disconoscere che c'è un problema di sicurezza all'interno delle carceri, ma utilizzando strumenti diversi. Concludo su una, vedo l'onorevole Bindi di fronte a me e quindi viene proprio benissimo questa mia conclusione. Sì, noi siamo i mediani, ma non soltanto siamo i mediani, ma soffriamo anche di una qualche diffidenza un po' troppo avanzata per essere una società democratica. Parlo degli avvocati e della funzione degli avvocati. Io ho letto le parole dell'onorevole Bindi in sede istituzionale, in Parlamento, a proposito degli avvocati, ne sono stato profondissimamente addolorato. Nell'avvocatura italiana ci sono stati esempi che hanno, tanto per utilizzare anch'io, un minimo di retorica, versato il sangue in difesa della democrazia nel processo dell'EBR a Torino, qui in Sicilia, fa ma. E allora io sentir dire che in nome del diritto alla difesa di ogni imputato diventano complici del proprio imputato gli avvocati, con una generalizzazione che fa torto alla intelligenza di chi l'ha pronunciata, ma che si sposa perfettamente, con un'idea che vede il diritto di difesa sempre al confine di una zona grigia tra la leicità e l'illecità, ma soprattutto di un'idea etica che confonde la difesa con il tra virgolette favoreggiamento legale del reato, è triste. Io penso che su questo ci sarebbe bisogno anche di riflettere quando si vuole riportare la mafia, l'antimafia, la lotta, la criminalità organizzata all'interno, non soltanto di una visione del diritto e della giustizia, ma anche dei rapporti civili corretti tra le parti della società civile. Grazie. Allora, con questo intervento dell'avvocato Spigarelli, che conferma a mio avviso come la giustizia penale nei suoi diversi momenti, della concezione delle norme, della loro interpretazione, della loro applicazione, non può che essere un'impresa collettiva a cui partecipano con pari dignità diversi i soggetti, ognuno col suo ruolo, però bisognerebbe fare in modo che si tenga più conto dell'esigenza di una virtuosa interazione tra tutti. Io sono a ciò che i quali ritengono che il mondo dell'avvocatura deve riguadagnare voce, protagonismo culturale, con una inversione di tendenza rispetto a quanto è accaduto negli ultimi anni. Non dico più niente anche per ragioni di tempo. Ora dobbiamo procedere alla stipula della Convenzione.